Io credo che debba essere chiamato col suo nome e cognome, questo è terrorismo islamico, punto. Ovviamente la solidarietà e la vicinanza alle famiglie, alle vittime italiane e non solo. Dopodiché noi dobbiamo renderci conto che tanto la Libia quanto la Tunisia sono a poche centinaia di chilometri di distanza dal nostro paese. E senza fare allarmismo, ma al tempo stesso senza negare l'allarme terroristico, anche il nostro paese rischia di poter essere soggetto a questi fenomeni. Per cui la risposta deve essere innanzitutto quella di difesa e di garantire sicurezza interna ed esterna al nostro paese. Ricordando che non l'ha detto solo la Lega, ma l'ha detto anche Bernardino Leon, che è l'osservatore ONU in Libia, che noi abbiamo qualcosa come un milione di profughi pronti a partire dalle coste lipiche e la risposta prima e immediata per garantire la sicurezza al nostro paese che è a rischio attentato è quello di poter garantire un blocco navale e quindi poter mettere le navi della marina militare che oggi noi siamo l'unico paese al mondo che utilizza per importare come un vero e proprio traghetto dalla Libia in Italia i migrati e i candestini rispetto ai quali si può infiltrare il terrorismo islamico utilizzare queste navi non per fare il traghetto ma per mettere a difesa dalle nostre coste e impedire che il nostro paese possa rischiare quello che sta accadendo e che è accaduto in altri paesi.